Ciao siamo i Lost, un saluto a Gossip News i Lost sono nati nel 2004, sono nati a Tiene, provincia di Vicenza e da quel piccolo paese di provincia abbiamo cominciato a girare in tutta Italia avete cominciato soprattutto con un grande successo con la pagina di MySpace si, inizialmente Walter ci ha portato il nome di questo portale e abbiamo creato il nostro spazio e caricato la nostra musica ci è servito moltissimo, infatti è stato un po' il nostro trampolino come è stato passare da 20-100 visitatori a un milione di contatti? insomma questo è un grande successo è una grandissima emozione, soprattutto è stata una crescita quindi comunque mano a mano cercavamo di mantenere i contatti più diretti possibili e quindi poi i contatti sono aumentati e di conseguenza anche il primo contratto discografico e così via quindi comunque siamo sempre stati attenti al web e comunque ci ha dato grandi soddisfazioni grazie! 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 grazie!